Il programma proposto dal PMCE Parco della Musica Contemporanea Ensemble dell'Auditorium Parco della Musica di Roma definisce un profilo internazionale di alto interesse per la presenza di due autori affermatissimi, transnazionali, anche se entrambi incidentalmente della Corea del Sud, Isan Yun e Unsuk Chin, testimoni di un'epoca di passaggio in cui, dai linguaggi della post-avanguardia della seconda metà del Novecento, si entra in una nuova era dove si delineano prospettive più innovative. Ciascuno degli autori rappresentati ha a suo modo consolidato uno stile, suffragato da una cospicua produzione, che rende riconoscibile la cifra compositiva già nelle prime pieghe di ogni lavoro. La presenza di questi compositori in tutti i festival di prestigio e nelle stagioni concertistiche più importanti al mondo produce anche un confronto esecutivo che spinge gli interpreti a considerare classici tali autori e ad affrontare una prassi esecutiva già consolidata ad altissimo livello di prestazione, per cui possiamo dire che interpretare un programma così composto è motivo di interesse profondo per ogni musicista sulla scena ed è anche il presupposto necessario per un fecondo coinvolgimento di un pubblico sempre più esigente. Grazie. Grazie. Grazie.